Cos'è crescita innovazione? Crescita innovazione per me sono fondamentalmente comunicazione, ho sempre avuto la fortuna di conoscere persone che hanno voluto condividere conoscenza con me, quindi comunicarla e io adesso nei progetti cerco di fare lo stesso, portare quello che ho imparato e condividere con gli altri. Nello specifico nel caso del progetto di Connecting Talents è proprio questo, la capacità di aiutare gli altri a crescere ed evolversi come talento utilizzando la conoscenza che questo gruppo di professionisti ha imparato negli anni e mettendo a disposizione delle altre persone.